091 96 11 08 Buonasera a tutti, oggi cambiamo musica, parliamo di musica sinfonica che si dovrebbe suonare al Teatro Politiama, però purtroppo il Teatro Politiama è occupato dai dipendenti e quindi non va in scena nulla se non manifestazione di protesta, protesta contro la Regione che non ha erogato i finanziamenti sia per colpa propria ma anche e soprattutto per la decisione del Commissario dello Stato di impugnare la famosa finanziaria. Risultato? I lavoratori sono in agitazione, qui abbiamo due rappresentanti sindacali, io ve li presento, Ferdinando Caruso della CISL e Tommaso Giambanco della CGL. Vi ringrazio per questa partecipazione, ecco loro parleremo di questo argomento che ritengo importante per la città di Palermo, soprattutto dicevo prima della trasmissione, ogni volta rimango perplesso del fatto che ogni sei mesi, ogni anno si ripropone lo stesso problema e quindi si rivede l'occupazione del Teatro Politiama, i lavoratori che sono costretti a protestare, chiaramente con grandi difficoltà sia per loro che per gli utenti, ma soprattutto per le loro famiglie che chiaramente vivono momenti di terrore, diciamo così, tra virgolette, perché non vedono assicurato uno stipendio mensile, perché proprio di questo si tratta per essere estremamente chiari. Allora è giusto parlarne e parlarne con dei rappresentanti sindacali, sono rappresentanti dei lavoratori i quali conoscono bene tutta questa vicenda. Con loro poi cercheremo di capire quale possa essere la soluzione al di là dell'erogazione dei contributi che aspettano all'Orchestra Sinfonica Siciliana. Allora, Ferdinando. Sì, è chiaro, ormai hai rappresentato benissimo, e buonasera a tutti per iniziare, hai rappresentato benissimo le difficoltà che esistono all'interno del Teatro Politiama, della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana e i lavoratori che operano al suo interno. Il problema ormai è diventato esasperante, perché noi andiamo avanti così da oltre un anno e mezzo, con ritardi enormi nelle retribuzioni, nel pagamento degli stipendi, ritardi enormi anche nella programmazione dell'attività. È una situazione che speravamo, onestamente, con l'arrivo anche di questo commissario che la Regione ha deciso di mandarci sette mesi fa, che fosse possibile aprire un percorso anche di rilancio, e per questo motivo i lavoratori hanno iniziato anche un percorso virtuoso, quindi abbiamo applicato un taglio consistente sulle retribuzioni, quindi ci abbiamo messo dei soldi noi, abbiamo aumentato la produttività, abbiamo fatto tutto quello che, insomma, è poi nelle nostre possibilità, perché siamo operatori musicali, non facciamo altro, è quello. Questo non c'ha invece... speravamo in un riconoscimento da parte della Regione, in tal senso. In realtà così sembrava, perché lo stanziamento era in aumento per l'anno con la finanziaria 2014, anche se di qualche centinaio di migliaia di euro, è sempre insufficiente, perché i 9 milioni e 2 programmati e previsti non erano comunque sufficienti per, se non a fronte di ulteriori sacrifici da parte dei lavoratori, quindi altri tagli delle retribuzioni e quant'altro. Invece ci siamo ritrovati con questo problema della finanziaria precipitare il contributo da 9,2 a 1 milione e 200 mila euro. Questo significa chiudere certamente l'attività e lo scherzo di infonica siciliana e quindi tutto il teatro politico. È chiaro che però il governo regionale interverrà su questa vicenda, già voi avete avuto dei contatti con esponenti regionali, quindi facciamo il punto della situazione. Cosa ci prevede? Intanto buonasera. Noi già abbiamo avuto degli incontri con il nostro assessore, che è l'assessore Stancheris, per giunto il nostro presidente, perché è il presidente della fondazione. Lei ci ha assicurato, ma non si è preso l'impegno, perché naturalmente non si può prendere l'impegno se prima non parla con il presidente Crocetta, si è preso l'impegno di far mantenere il contributo quello che era già previsto prima dell'impugnativa, che è quello di 9.200 mila euro. Naturalmente questi 2.900 mila euro sappiamo benissimo che per la fondazione sono sempre pochi, perché noi partiamo da tre anni a venire qui, quando noi siamo partiti con un contributo di 13 milioni e mezzo, a oggi sul capitolo di spesa c'era 9.200 mila euro, quindi sapete benissimo che abbiamo un taglionetto quasi del 35%. Naturalmente questo contributo serve quasi esclusivamente a pagare gli stipendi dei dipendenti. Quanti siete tutti dipendenti? Noi siamo 150, fra tecnici e amministrativi e orchestrali, naturalmente la massa più importante è l'orchestra, i tecnici e amministrativi è tutta la catena per far muovere un teatro, perché il teatro politiano non è un teatrino, naturalmente il personale ci vuole. Oltre al fattore che cercheremo di fare aumentare il nostro contributo, è anche per un fattore di stagione, perché non possiamo tenere l'orchestra sinfonica siciliana con un contributo così basso e far venire magari dei maestri che non sono illustri. Perché diciamo come funziona, cioè si programma una determinata attività, l'orchestra base è quella dell'orchestra sinfonica siciliana, però poi intervengono anche personalità esterna. Precisamente, perché ogni settimana noi abbiamo l'ospite di un direttore, che giustamente deve essere retribuito, se il direttore artistica non ha i soldi per ingaggiare il direttore non può fare niente. Quindi questo diciamo è un danno della qualità complessiva di tutta la stagione. Precisamente, poi da noi abbiamo una sofferenza perché questo contributo noi anno per anno dobbiamo avere sempre il pensiero quanto ci danno, quanto verrà e quanto... Noi vogliamo e chiediamo anche naturalmente ai nostri politici, al governo regionale, che devono fare un contributo, devono dare un contributo triennale, dove noi possiamo fare anche dei progetti triennali, perché chi è che vuole comprare un biglietto della fondazione dell'orchestra sinfonica lo può comprare anche due anni prima, così sa la stagione che c'è. ci sarà fra due anni. Generalmente all'orchestra sinfonica gli introiti provengono sia dal contributo regionale, non so se ci sono altri tipi di contributi da parte dello Stato, da parte del Comune e anche dagli abbonamenti. Allora possiamo fare un quadro della situazione per quanto riguarda gli incassi, quanti abbonamenti ci sono, cosa bisognerebbe fare. Se diamo un'idea precisa di quella che è l'orchestra sinfonica siciliana, perché molte volte la gente vede il teatro politico, ma non sa chi all'interno opera un'orchestra sinfonica siciliana e chi ha dei problemi, ma che nello stesso tempo vive in un determinato modo con contributi e con gli abbonamenti. Per fare un po' un riepilogo generale sui contributi o su quello che comunque sono gli introiti della fondazione, possiamo rappresentare così. La maggior parte chiaramente arriva da parte della regione siciliana. Poi abbiamo un contributo statale che è una cifra alquanto irrisoria, la dico di 430 mila euro l'anno. Generalmente si basa in base alle giornate lavorative, ci sono tanti parametri che loro ormai mettono in atto. Gli spettacoli. Gli borderò, sicuramente. Poi abbiamo un introito legato al botteghino, cioè alla vendita degli abbonamenti e dei biglietti, che quest'anno dobbiamo dire ci fa piacere, abbiamo fatto il tutto esaurito e il pubblico valerminale ha risposto molto bene, siamo contenti di questo, vuol dire che ci vogliono bene, però chiaramente tenendo conto che noi riusciamo ad avere una capienza di 1800 posti complessivamente, cioè calcolando i due turni di concerto, quindi il venerdì e il sabato, quindi 900 a serata, arriva a coprire un 15% scarso del contributo regionale, quindi fatti i conti arriviamo intorno al milione e qualcosa di entroiti da botteghino. Poi ci sono ancora le cessioni del teatro, quindi il teatro che viene prestato a terzi, affittato a terzi, sia nelle sale che nella sala grande, quindi la sala principale del teatro, che le sale laterali, che portano un introito di altri circa 300 mila euro annui. Questo è un po' il budget che ha a disposizione la fondazione. Dico però, occorrerebbe fare un'azione di promozione ancora maggiore, perché noi sappiamo che generalmente agli spettacoli dell'Orchestra Sinfonica Siciliana assiste un pubblico di appassionati, di intenditori, quindi occorrerebbe, secondo me, concordato con la Regione, una forte azione di promozione per far sì che la Regione possa aiutare l'Orchestra Sinfonica Siciliana ad aumentare le presenze del pubblico. Questo è un ragionamento che voi avete fatto con l'assessore Stancherisi, dato che è l'assessore di riferimento. Noi abbiamo avuto un tavolo tecnico con la Stancherisi, sia noi che anche i segretari territoriali di categoria, dove abbiamo chiesto all'assessore di sfruttare maggiormente il turismo che noi abbiamo, anche perché sappiamo benissimo quanto navi attraccano qui di crociera. Il Teatro Politeama è il primo teatro che viene visitato salendo da Via Americamari. Abbiamo chiesto anche di fare il John Convention con altri teatri, quindi una sinergia con gli altri teatri, di portare, di avere musicista degli altri teatri e portare da noi uno scambio culturale con gli altri teatri. Ma ancora realmente non c'è stato, ne abbiamo parlato, ne abbiamo parlato tantissimo. Cioè, in sostanza io che cosa voglio dire? Cioè, manca una vera e propria politica del divancio del Teatro Politeama. Secondo me questo è uno dei motivi, perché noi oggi dobbiamo esaminare i vari motivi, ecco, questo è uno dei motivi che poi incide negativamente su tutto il resto. Volevo puntualizzare anche il fatto che noi abbiamo il Teatro Politeama dato a titolo gratuito dal comune, quindi la parte socio-comune è solo e esclusivamente del teatro, quindi il comune entra in società all'Orchestra Sinfonica Siciliana perché ci dà il teatro. Abbiamo un contratto di 30 anni, ma questo teatro deve essere anche un po' ristrutturato. Abbiamo chiesto varie volte, deve essere adeguato anche al pubblico che entra, ai turisti che devono entrare per vedere il teatro, perché abbiamo delle sale bellissime. Allora, il teatro è del comune di Palermo, il comune non ha i soldi, i soldi li deve dare alla regione oppure devono essere fondi statali, quindi poi ritorniamo sempre alla regione che poi deve entrare. Infatti chiediamo anche, ritornando sempre al contributo regionale, che per noi è poco, c'è anche la manutenzione del Teatro Politeama, perché il Teatro Politeama anche non viene manutenzionato, non viene ristrutturato, perché se lei entra al teatro, ancora ci sono i bagni di 25 anni fa, quando c'era, gestiva ancora il massimo, che purtroppo hanno bisogno anche un po' di ristrutturazione. Chiedere tutta la regione è sempre più difficile, perché abbiamo visto che ci sono difficoltà economiche, allora io penso a nuove iniziative, non lo so, nell'immissione dei privati, cioè coinvolgere i privati, questo è un tentativo che è stato fatto, io capisco che questo ragionamento lo faccio a voi che siete i rappresentanti dei lavoratori, lo dovrei fare io agli amministratori, ma sappiamo che in questo momento mancano pure gli amministratori, che è l'altro motivo della protesta, la protesta è anche questa, però ritorniamo al discorso che da quando noi da ente siamo passati a fondazione, per giunta tutti i teatri di lirici e sinfonici sono passati a fondazione, sono passati a fondazione perché c'era la possibilità di far entrare i privati, ma da noi qui in Sicilia, lei sa benissimo che purtroppo non è mai venuto nessuno a dire vi do un milione di euro perché voglio entrare, manca l'organizzazione vera e propria, manca un marketing da parte nostra, un marketing che vada a cercare gli sponsor, vada a cercare tutto quello che naturalmente si possa, anche per il fattore della sussurazione. Come sta vicenda dei vertici, come funziona? Sono stati azzerati? Il 25 di gennaio è decaduto il commissario, il dottore Gianni Filia, è decaduto dall'incarico e non è stato né rinnovato il suo incarico né un'altra persona. Però dico, può firmare perché in prorogazio potrebbe firmare? No, lui non ritiene corretto firmare nulla, non vuole firmare nulla, sappiamo che la Stancheris, l'assessore Stancheris ha già riproposto, segnalato la nuova nomina e si sta aspettando la prima giunta utile di governo perché possa essere... Sì, sarà lo stesso commissario oppure sarà un'altra persona? Si pensa che sia lo stesso commissario, la cosa potrebbe anche fare piacere, proprio per quello che dicevo all'inizio... Si sarebbe il commissario ma non c'è il consiglio di amministrazione. Non c'è il consiglio di amministrazione, cosa che poi diventerà per noi importantissima è proprio quella di avere invece un organismo, un organo democratico a tutti gli effetti nominato e quindi che possa... e che però sia anche competente. Dico io, ma all'interno del consiglio di amministrazione è prevista la presenza dei rappresentanti dei lavoratori? Assolutamente no. Prima però era così mi sembra. Prima sì, quando si era enti sì, poi comunque fu fatta una norma già quando noi eravamo ente nazionale e che tutte le organizzazioni sindacali uscivano fuori dai consigli di amministrazione. Prima della termissione parlevamo della possibilità di un'autogestione. C'è stata un'esperienza in passato del genere? Voi sareste disponibili a un'autogestione della fondazione? Ma noi nei fatti l'abbiamo fatta, cioè noi siamo andati avanti dal mese di maggio 2013 fino a settembre avanzato in autogestione, cioè ci siamo organizzati da soli, abbiamo programmato la stagione, abbiamo fatto i concerti in piazza, a piazza Politeama proprio, abbiamo realizzato tutto quello che potevamo per non spegnere le luci del teatro e quindi abbiamo fatto questo. Questo argomento ne avete parlato con la politica in generale, con l'assessore, loro chiaramente non sono favorevoli perché debbano indubbiamente piazzare qualcuno, però l'autogestione in questo caso non potrebbe essere una delle soluzioni che potrebbe aiutare la politica a risolvere questo problema. L'autogestione secondo me per noi si potrebbe anche fare perché l'abbiamo dimostrato, l'abbiamo dimostrato, ha funzionato e ha funzionato anche bene, devo dire. Il commissario che io stimo tantissimo perché quando l'hanno nominato è stata una persona molto schietta e molto precisa, insomma ci ha detto quello che dovevamo fare e l'abbiamo fatto. Abbiamo chiuso un bilancio con 8 milioni e 400 mila euro l'anno scorso dove i lavoratori si sono tagliati lo stipendio del 15% e l'abbiamo fatto. abbiamo lavorato senza nessun tipo di straordinari, abbiamo fatto gli spettacoli, abbiamo aperto il teatro a tutti. Abbiamo fatto anche spettacoli di domenica per cercare di attirare più il pubblico possibile. Il fattore dell'autogestione, è normale che il politico, non ne abbiamo parlato, però è normale che lui vuole uno di sua espressione. Se funziona tutto per carità. Se funziona si potrebbe anche fare una proposta di questo. Ma siccome ogni volta ci sono dei problemi, allora tanto vale coinvolgere direttamente i lavoratori, perlomeno si eliminano alcuni problemi, poi ce ne saranno altri. Io volevo fare un riferimento però pure al bilancio. Secondo me la Regione ha tenuto conto però del bilancio che avevate chiuso nell'anno precedente, quindi non poteva mettere altre somme, c'è una somma diversa dal consuntivo precedente. Questo è stato, però capisco che l'attività è stata ridotta perché non si poteva fare. Il bilancio si chiude sempre per quanti soldi entrano, è normale questo, perché un amministratore se c'ha un contributo di 9 milioni e meno… Nell'erogazione del contributo successivo hanno fatto questo ragionamento, se sono bastati 8 milioni e 4, non è inutile che ne mettiamo di più. A noi nel 2012 con l'evento… E ora dico a vostro… No, è a nostro favore, ma infatti volevo spiegare questo, che nel 2012 quando si è stato fatto il bilancio preventivo dell'assessorato, quindi il bilancio preventivo alla Regione, ci hanno senza sapere, senza sapere niente, il direttore dell'assessorato al turismo, senza sapere, senza leggere i nostri bilanci, quando avevamo di bisogno, ha fatto un taglio parallelo per tutti i teatri del 20%, senza sapere se ne avevamo di bisogno… Per tutti i teatri siciliani. Per tutti i teatri siciliani. Quindi noi già da allora abbiamo avuto un abbattimento del 20%. Poi si sono… naturalmente più avanti si è andata, ci hanno levato il 13%. Siamo arrivati a 8 milioni e 5. È normale che si doveva chiudere un bilancio con 8 milioni e 5. Perché? Perché il commissario è stato molto bravo, devo dire, perché se non chiudere il bilancio neanche avevamo il resto dei soldi per dare gli stipendi al personale. Questo è stato. Ma non ci bastano per niente… L'azione promozionale manca, eppure l'Orchestra Sinfonica Siciliana è stata addirittura in Cina. Quindi dal punto di vista turista e della promozione turistica c'era stata questa volontà in un primo momento, cosa che poi è venuta meno, capisco, proprio per mancanza di fondi. Questa esperienza in Cina, com'è stata vissuta da tutti e da tutto il personale? È stata vissuta entusiasticamente. Voglio ricordare a questo proposito, è stata la prima orchestra occidentale ad andare in Cina nel 1996. Dopo di noi è andata la Scala, sono andato a London Symphony, ma molto dopo. Noi siamo stati i primi a fare questa esperienza e ha portato il nome della Sicilia, veramente ha dato un prestigio. È una forma culturale di investimento indiscutibile. Io ricordo addirittura, e ci sono le testimonianze di grandi critici come Massimo Mila, quando hanno ascoltato l'Orchestra Sinfonica a Bologna, se ricordo bene, e hanno detto scopriamo che la Sicilia non esporta solo arance e mafia, ma esporta anche della ottima cultura. Dico, è detto da Massimo Mila, certamente non è di poco, ma bisogna comprendere questa orchestra nata per una legge istitutiva della regione siciliana, clonata successivamente da tantissime regioni e portata avanti proprio dove poi sono nate, sul nostro format sono nate orchestre come la Toscanini di Parma, è nata la Sinfonica del Lazio, è nata l'Orchestra di Bari, è nata Firenze e così via. Si sono venute a creare, Bolzano, si sono venute a creare tutte queste orchestre che oggi vivono e noi stiamo rischiando di chiudere, cioè è assurdo, la regione è come un figlio, cioè non può non riconoscere più i propri figli, allora deve decidere cosa vuole fare, perché noi siamo anche stanchi di andare a fare la questua ogni giorno, chiedere ogni anno è un incubo sul contributo, è giusto il ragionamento, chiediamo un contributo triennale che consenta di fare la programmazione anche a un alto livello, perché i migliori artisti, i migliori direttori, i migliori solisti non li impegni dall'oggi al domani, devono essere bloccati prima. Ma il rapporto con gli altri teatri, perché dicevamo sempre a poc'anzi, ma non si può fare un ragionamento sia col teatro massimo che col teatro biondo per creare una specie di holding culturale per portare avanti tutte le istanze che riguardano appunto la musica, ma il teatro in genere, perché noi vediamo che ci sono degli interventi singoli, personali, cioè una volta si lamenta l'orchestra sinfonica siciliana, una volta il teatro massimo, poi il teatro biondo, però soprattutto da parte dei sindacati manca un ragionamento complessivo unico che porti tutti verso la stessa direzione che è la certezza del contributo per poter programmare. Anche pure per quanto riguarda la promozione in genere si potrebbe fare di comune accorto con tutti gli altri teatri. Io posso dire, per esempio, Palermo produce culturalmente questo cartellone dove c'è il teatro biondo, il teatro massimo, l'orchestra sinfonica siciliana che poi, ripeto, opera all'interno del teatro politiano, quindi tre grossi teatri. Lo stesso ragionamento a Catania e anche nelle altre città. Cosa manca perché si realizzi una sinergia di azioni culturali? Il tentativo è stato fatto, è stato fatto anche in questa finanziaria, per onestà di pensiero. Si pensava a una specie di fondo unico dello spettacolo regionale. Questo sarebbe servito per creare una collaborazione anche tra i teatri, per quello che sono le notizie che ci arrivano. E anche, oltre alla distribuzione quindi delle risorse, giocava a fare proprio delle collaborazioni tra teatri, cosa che noi abbiamo già affrontato in diversi anni fa, dove chiedevamo attraverso tavoli tecnici, abbiamo fatto incontri con l'assessore ai beni culturali, turismo. Abbiamo fatto di tutto cercando di portare avanti, creare delle sinergie. Sinergie che potevano essere anche tra noi stessi, l'orchestra della fondazione nostra, così come col Bellini di Catania. Abbiamo fatto anche degli scambi, avevamo iniziato a fare delle rappresentazioni con il coro per esempio dell'orchestra di Catania. Abbiamo realizzato l'anno scorso, in collaborazione con il Teatro Massimo di Palermo e i professori d'orchestra del Vittorio Emanuele di Messina, abbiamo fatto una sinfonia di Mahler e l'abbiamo portata proprio a Castella al Mare, qua a Palermo e quindi si sono incominciate a fare. Poi tutto decade, ma tutto cade perché chiaramente essendoci questo problema delle non risorse non si comprende neanche perché come facciamo noi a spostarci a Catania? Se c'è il problema del quotidiano, come si pensa in grande? Non si riesce a pensare. In tal senso volevo dire, perché altra norma che era importantissima e che invece è stata abbocciata era quella del risanamento dei debiti. Come? Si poteva ricorrere attraverso l'IRFIS a una forma simile a un mutuo dove le fondazioni come la nostra, che purtroppo hanno svariati milioni di deficit e di debiti, poteva attingere per poi farne la restituzione in 15 anni. Anche questa norma è stata abbocciata. Questo significa che noi non riusciremo mai a uscire fuori dall'imbuto perché anche se il contributo dovesse aumentare, ma abbiamo decreti ingiuntivi e pignoramenti che ci sovrastano e quindi non riusciamo mai a compensare. Vediamo cosa dice Giammanco, non so se abbiamo omesso qualche cosa che sia importante dire. No, io volevo collegarmi un po' al discorso che mi diceva il mio collega riguardante quello che avevi detto, perché non fare un po' di sinergia fra il Massimo e il Massimo. Si deve perché giustamente è un discorso che se noi dobbiamo fare sinfonica non facciamo la lirica. Perché io vi potevo fare una domanda, ma perché voi fate solo sinfonica? Secondo me voi finite per penalizzare, allora fate pure altre cose. Anche perché noi, anzi, ci hanno provato a farci fare delle opere liriche, ma sono sempre riuscite un po' maluccio perché non abbiamo la struttura, non abbiamo i tecnici, non abbiamo niente per fare l'opera. Naturalmente il Massimo ha tutto. Il Massimo è brava che fa lirica, naturalmente fa anche sinfonica, c'è una stagione sinfonica e dobbiamo anche noi, anche il pubblico è un po' indeciso oggi con la crisi che c'è, dove deve andare? O deve andare al Massimo, o deve venire lì da noi all'orchestra sinfonica, che a noi ci penalizza per giunta, perché noi a un paio di mesi, che purtroppo facciamo sempre scioperi, manifestazioni per i nostri diritti, giustamente, e il pubblico è anche un po' stanco riguardante questo, non sa più quello che è. È normale questo. Riguardante il discorso del teatro biondo, che noi seguiamo pure, anche perché come sindacato abbiamo i collegamenti col biondo, il biondo è un teatro a parte dove si fa altro tipo di teatro e anche lui, anche il teatro ha bisogno di esplodere, perché c'ha la potenzialità, ecco. Però, come dicevi tu poco fa, non c'è l'organizzazione politica e le persone giuste politiche al posto giusto. Comunque, la verità ci sarebbe tanto da dire, io magari evito di dirlo perché non voglio essere polemico. Concentriamoci per adesso su questo problema che vi riguarda. Non è possibile che una fondazione importante come quella dell'orchestra sinfonica siciliana debba rischiare di chiudere a Palermo, dopo che ha raggiunto dei livelli massimi, anche se opera al politiamo. Il gioco, ecco, il gioco di parole. Perciò io sostengo la vostra lotta, speriamo che tutto si risolva per ridare questa importante attività culturale ai palermitani che attendono che tutto ritorni tranquillo o come prima. Quindi io vi ringrazio per questa partecipazione, ringrazio i telespettatori, buonasera a tutti. Buonasera.